Buona nuova settimana piena, stracolma di film. Perché io sto guardando molti più film di quelli di cui ti parlo. Perché ho in programma di fare un video sui film per celebrare il Pride Month. Quindi sto guardando un sacco di film di nascosto. Perché mi sa stupido parlarne nel vlog e parlarne in un video dedicato. Quindi se avevi calcolato che quei 18 film della settimana scorsa e i 5 della settimana prima ne ho visti 23. No, ne ho già visti una quarantina questo mese. Why? How? Se sta così si vede il basilico? Si vede il basilico ma non si vede me. Non è nella migliore delle forme. Ma fa un profumo. Sarà che il basilico è uno degli odori che più associo all'estate. Ma mi dà una gioia infinita questa piantina. Abbiamo rivisto Cortocircuito. Classico film della fantascienza comica. Sì dai, fa abbastanza ridere. È molto carino Cortocircuito. E poi c'è Ellison del Breakfast, che mi rende sempre felice di vedere. E Mahoney di Scuola di Polizia. Perché mi ricordo Mahoney e non mi ricordo Scuola di Polizia? È più facile ricordare Scuola di Polizia. Ho visto con mia mamma in spagnolo. Ultimamente ci ha preso bene di rivedere film in spagnolo. Il Capo Perfetto con Javier Bardem. Che è una spietata critica al capitalismo e ai... Come si dice in italiano? Gli imprenditori, quelli che fanno il discorsetto ai propri impiegati. Tipo, oh sì ma noi siamo una famiglia. E poi non si fanno nessun problema a molestare, licenziare, umiliare e minacciare i propri dipendenti. Se guardi questo film e sei già di ideali di sinistra, diventi ancora più di sinistra dopo aver visto questo film. Mamma mia che nervi che fa venire. Ti viene voglia di entrare lì dentro con una bomba e veramente farli saltare in aria perché... Che persone di merda. Mamma mia. Comunque bello. Cioè è scritto bene. Javier Bardem è... è bravissimo. Me ne sono accorta troppo tardi ma lui è sempre stato un attore bravissimo. L'ho sempre sottovalutato. Però da quando ho visto Bing de Ricardos ma mi è scoccata la scintilla per Javier. Cos'è da dire su Beverly Hills Copp? C'è qualcosa da dire su un capolavoro del cinema come quello? No. Nulla. È perfetto. Abbiamo già detto tutto. È perfetto. Forse è meglio di Beverly Hills Copp e c'è solo Beverly Hills Copp 2. E meglio di quello... Non il 3. Perché il 3 è un po' meno bellino del primo. Ma comunque è spettacolare. Io ho cominciato a vedere la serie del villaggio dei dannati. Medwitch Cuckoo. È un reboot del film del 1960. E finora... Abbastanza noioso. Ah non dirlo a me io non lo so. No non ce lo so. Tu non sei felice che sia su Lelini? Gli alieni. Io ho visto il film di Carpenter. Del 95. E non mi ricordavo ci fossero alieni. Mi pareva che fossero loro con dei poteri. No i bambini sono... Cioè hanno i poteri perché sono alieni. La serie è... Fino a là non mi ha detto niente di intenso. Però vediamo. Ho visto solo due episodi. Sì adesso ho le vette. Quella vicina alla porta. Ci ho messo anche la grossa che aveva tolta prima. Tutta vicina alla porta sulla destra. Quella è tutta da lo scorso. Questo è un film che ho appena finito di vedere. E che non sarà nel video sul Pride. Perché ok sul tema ci siamo. Rachel Weisz e Rachel McAdams. Bravissime ok fantastiche. Però che palle di film. Mamma mia. Tra l'altro finale di merda. Non mi è piaciuto per niente. Io voglio che le mie lesbiche siano felici per sempre. E qui non lo sono. Quindi non sarà in quel video. Per la rubrica Cinema Guarda Thrillerini Horror del Pomeriggio. Questo film ha il bellissimo titolo. L'infermiera assassina. Con quanta gioia io guardo questi film. Accide merda. È orribile. È bruttissimo. Però la casa in cui è ambientato è molto bella. Paola Marella approva. Comunque la mia fonte inesauribile di thrillerini scarsi del pomeriggio è questa. Ombre di primavera. Su TV8. Lo fanno anche d'estate. E mi sembra che si chiami ombre d'estate. Comunque ne fanno almeno uno al giorno. Sono sempre bruttissimi. E io li amo. Che bellissimi capelli. Anyways. Dopo ombre di primavera fanno sempre un film d'amore. E a me non me ne sbatte veramente l'anima dei film d'amore. Soprattutto non. Cioè non mi piacciono quelli fatti bene. Figurati quelli fatti male. Però è appena iniziato uno. E c'è Nathaniel di Crazy Ex-Girlfriend. E ho letto nel cast che c'è Corbin Bleu. Che era il mio preferito di High School Musical. Me lo guardo. Solo perché c'è Nathaniel. Ne vale la pena? Porca miseria. Lui era il mio preferito in Crazy Ex-Girlfriend. Ora ho voglia di rivedere Crazy Ex-Girlfriend. O magari solo di riascoltarmi. You're on top of my to-do list. Crazy one. Let's get intercourse. Quanto cazzo è bella. Let's get intercourse. Guarda. I miss your face. Comunque questo è il film in questione. L'amore per davvero. Non esco di casa da giorni. Quindi vado a fare due passi. Ascoltando audiolibri. Perché non sia mai. Per me fare le cose senza guardare film o ascoltare audiolibri è un po' perdere tempo. E soprattutto in quale altro modo riuscirei a vedere centinaia di film all'anno e leggere cento e passa libri. Vado all'ombra. Mi è successo esattamente come con The Ten Thousand Doors of January e The Starless Sea. Ovvero che per puro caso ho letto back to back due libri praticamente uguali. che sono Gallant di V.I. Schwab che mi piace tanto come scrittrice. E adesso sto leggendo Asking Full of Shadows. E sono entrambe storie di fantasmi. Di ragazze che hanno un rapporto speciale con gli spiriti, con l'oltretomba. Che rimangono senza genitori. E vengono mandati a vivere da zii, da parenti. Che vivono in prestigiose maggioni. Piene di segreti. Gallant aveva come lato positivo che la protagonista non parla. Quindi questa vena di originalità mi è piaciuta. A Skin Full of Shadows è scritto benissimo. E' ammietato in una Londra alternativa. In cui appunto gli spiriti possono impossessarsi delle persone. E la protagonista viene tra virgolette posseduta dallo spirito di un orso. E' già il secondo libro che leggo con una relazione particolare tra una ragazza e un orso. L'altro si intitolava The Bear and the Nightingale. Passo la macchina. Ciao Patri! Era una mia amica. Ci siamo fermati a fare due chiacchiere. Non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Di Skin Full of Shadows. E' bello, mi sta piacendo la prosa. E' interessante, interessante che sia invitata in questa Londra alternativa. Con gli spiriti, biribì, 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 biribì. Comunque qui è dove abito. Si sente ancora meglio il casino che fa la gente che lavora al proprio orto, al proprio giardino. Vita di campagna, baby. Vediamo se riesco a ricordarmi tutte le cose che ho fatto e visto durante il fine settimana. Sabato siamo stati al Pride. Era la prima volta che facevano la parata del Pride a Pesaro ed è stato molto carino. C'era tantissima gente, è stato fantastico. L'evento in sé non è che sia stato wow, incredibile, stupendo, ultra, mega, giga, iper. Però sono molto felice che siano andate migliaia di persone. La trovo una cosa molto importante. Dopodiché siamo andati al Podere Bislacco, che è un posto che ci piace un sacco. E' un giardino, è un prato. Dove puoi fare i picnic e fanno quasi un concerto a sera. In particolare sabato suonavano cinque band. Quelle che mi sono piaciute di più sono i Mondays, che avevamo già visto al primo maggio. E i Tiger Flambé, che sono dei pazzi scatenati. Sono solo chitarra e batteria, ma il batterista fa per dodici. E' un mito. Io ho commesso questo errore di riportare in vita i miei Nintendo DS. Ho ricominciato a giocare a Layton. Ho finito un Layton. Ma il peccato mortale che ho... Ho ricominciato a giocare a Pokémon. Sto giocando a Pokémon Luna, ho già fatto una ventina d'ore. Sto per vivere un momento molto emozionante. Ciao amore. Ho un Pikachu femmina. Guarda, ha la coda a cuoricino. Domenica siamo andati al cinema. Abbiamo visto il documentario sul Montelago. Visto che ad agosto andremo al Montelago. Ero curiosa anche di sapere un po' la storia di questo festival. Il documentario in realtà è un docufilm. Le parti docu sono fantastiche. Le interviste sono super carine. E ci sono stati dei momenti che mi hanno sinceramente commossa. Perché quando qualcuno è mosso da una grande passione, come appunto quella della musica, e riesce a trasmetterlo con semplicità e senza arroganza, io apprezzo tantissimo e mi fa venire da piangere. Io ero convinta che il Montelago fosse nato come una cosa dell'assessorato della cultura, o comunque una mossa politica. Invece nasce dal sincero amore di queste persone che hanno avuto una carriera musicale straordinaria, hanno vinto concorsi in mezzo mondo, hanno fatto un tour allucinante, hanno suonato anche tipo in Mongolia negli anni 90. E tu guardi il film e ti sembrano una branca di beoni, coglioni, imbecilli, e invece sono dei musicisti pazzeschi. E da qui emerge la parte super cringe di questo docufilm, la parte film, perché ci sono delle scene recitate. Hanno preso dei ragazzini per interpretare i fondatori del Montelago da ragazzi. E non è che abbiano preso dei premi Oscar, né per recitare né per scrivere. Le parti film sono molto, molto cringe. Poi ci sono stati dei pezzi che sinceramente non ho capito. Visto che il film è diretto e prodotto dai fondatori stessi del Montelago, che appunto tu li vedi e dici ma questi sono scemi, il film ha dei pezzi che sono molto, molto sceni. Scemi e osceni. Li unisce e viene sceni. Tipo inquadratore di culi a caso, gente che urla, però non lo so, è molto cacciarone a un certo punto sto film. Tra l'altro la sala era tutta per noi, che è una cosa che mi piace sempre molto, avere il cinema privé. Ma cosa abbiamo fatto? Ah, dopo il film siamo andati a mangiare in uno dei nostri ristoranti preferiti, il Palì. Momento influencer, food blogger, con il programma del Montelago qua di fianco, che ho passato tutta la cena a leggere. Ieri, che era lunedì, ero sfranta, stavo malissimo. Com'è che io sto male di lunedì? Anche la settimana scorsa sono stata male di lunedì. Abbiamo visto Doctor Strange, che è sempre stato uno dei miei preferiti della Marvel. A livello registico, visivo, è il mio preferito, con tutti i colori, i kaleidoscopici, gli effetti speciali. Molto nolaniani. però quando li fanno nolan mi danno fastidio. Quando sono intorno a Doctor Strange mi piacciono. Tra l'altro c'è una cosa che io non concepisco. Side note, tra parentesi. Stephen Strange è dello scorpione. Siamo andati a cercare informazioni, lui è nato a non so che giorno di novembre, del scorpione. Ma non è vero. No. Cioè se tu osservi e ascolti Stephen Strange, è della vergine, è troppo della vergine. Non concepisco che sia dello scorpione. Tra l'altro mi è successo anche l'altro giorno. Quando guardavamo, non mi ricordo quale, Jurassic Park, ho detto ma è troppo della vergine Grant. Andiamo a vedere. Grant è della vergine. Vedi? Vedi? Questa era una piccola parentesi cinema, passione, astrologia. Ogni tanto mia mamma ha questi espluant. Vabbè che lei è tipo fan numero uno di Vin Diesel, Fast and Furious, Bruce Willis e company. Però ogni tanto ha questi sbagheggi mentali e chi li fa? Guardiamo l'ultimo imperatore. E... Ok. Io non sono la fan numero uno di Bertolucci, lo ritengo uno schifoso. Pur tuttavia uno dei suoi film è stato il mio film preferito in assoluto per parecchio tempo, The Dreamers. L'ultimo imperatore è la sua opera magna, è un lavorone incredibile, ci hanno lavorato due milioni di persone a livello di costumi, scenografie, è una roba pazzesca, è incredibile. In particolare a me piace tantissimo la prima parte quando l'imperatore è bambino, bambino, piccolino, 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 perché ha dei gialli incredibili con la parte. Il giallo imperiale, ne parlano proprio esplicitamente. e mi ha fatto ricordare che un altro autore che è molto famoso per il colore è Almodovar. Il rosso Almodovar. È qualcosa di stilistico, quasi una firma, il modo in cui lui usa il rosso. E mi è venuto da pensare, cavolo, allora il giallo potrebbe essere quel qualcosa in più di Bertolucci. E mi è venuto in mente che sarebbe una figata immensa fare dei make-up ispirati ai registi. Però così, quindi mi è venuto un'idea che sarebbe carino. Questo era il riassunto del weekend, che io ormai io per weekend intendo sabato, domenica e lunedì. Perché lunedì è il giorno in cui mi richiappo delle cose fatte nel fine settimana. Ho appena fatto un colloquio di lavoro, speriamo bene. Comunque, ultimi due film della settimana. Ho rivisto Il discorso del re. È un film che mi piace riguardare ogni tanto perché le performance sono divine. Gioffrey Rush secondo me è veramente uno dei migliori attori che ci sia. E Colin Firth pure, bravissimo, Elena Bonham Carter magica in questo film. Bello, bello, bello. Molto emozionante senza essere melenso. Mi piace come hanno portrayed non mi viene in italiano ritratto la fragilità di Bertie. Il film migliore della settimana è l'adattamento dell'Arminuta diretto da Bonito che è un attore un regista che non conosco devo approfondire perché ha veramente azzeccato alla perfezione e all'atmosfera del libro che avevo letto un paio di anni fa e lì per lì non mi stava piacendo ero tipo disgustata da tutte le descrizioni fisiche che ci sono tutti gli odori che permeano la prosa che è se per sé molto secca di questo libro. Nel film sono riusciti a renderlo benissimo è un film molto silenzioso ma recitato totalmente bene che non servono le parole non servono grandi discorsi perché le facce dei personaggi dicono tutto in particolare l'attrice che fa la mamma tutte e due le attrici che fanno la mamma mi sono piaciuta da matti veramente stupendo e soprattutto mi è piaciuta un sacco la scena che secondo me salva il libro se ti va a link il video in cui ne avevo parlato no qui 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 è qui vero qui non faccio spoiler in quel videolino sì un pochino comunque l'arminuta se riesci a tener duro è un libro stupendo non lo è da subito non è quel tipo di libro che dalla prima pagina ti dici wow questo è scritto per me però lo finisci e sei affezionato ai personaggi li conosci e ti importa di loro basta that's it per questa settimana è tutto un bezzo ciao ciao